Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada A19 Palermo-Catania e la nuova sede della strada statale 640, nota come strada degli scrittori. Nelle notti comprese tra lunedì 4 e venerdì 8 aprile, in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo, sarà necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo. Il percorso alternativo prevede l'immissione in autostrada mediante lo svincolo di Ponte Cinquearchi dopo avere percorso le statali 640 dir, 626 e 640 in direzione Caltanissetta-Xirbi, 122 bis e 121. La prima giornata, vale a dire quella di lunedì, non ha fatto registrare disagi per gli automobilisti che percorrono il tracciato, non ci sono state file, il traffico è stato regolamentato con successo. Adesso bisognerà andare avanti fino a venerdì e poi la situazione tornerà finalmente alla normalità.